26. All'infinito di voi stessi I fratelli del cerchio, attraverso Andreina, guida. La vostra mente cerca le più banali spiegazioni, ma la mente divide il mondo, poiché obbedisce alla dualità nella quale vive. 27. La vera realtà alla quale il vostro spirito risponde è quella dell'assoluto. 28. Ogni frammento di timore, di dubbio, di incertezza e di paura sono destinati a dissolversi nell'oceano imperturbabile dell'amore. 29. Non indifferenza, quindi, ma pienezza. 30. Perseguite sempre la via che sentite più diritta per voi, anche se piena di curve e di ostacoli. 31. Sarà l'unica che vi porterà all'infinito di voi stessi e di tutto ciò che è. 32. Nessuno è mai lontano, lontano non esiste. 33. Ognuno ha già scritto in sé il proprio destino, che è quello di trascendersi. 34. Perseguite sempre la via che sentite più diritta per voi, anche se piena di curve e di ostacoli. 34. Perseguite sempre la via che sentite più diritta. 34. Perseguite sempre la via che sentite più diritta. 35. Perseguite sempre la via che sentite più diritta. 35. Perseguite sempre la via che sentite più diritta. 36. Perseguite sempre la via che sentite più diritta. Grazie.